Ciao ragazzi, oggi vi volevo far vedere questo, che è uno stabilizzatore per la GoPro, si chiama anche Gimbal Io l'ho comprato perché comunque guardando i video su YouTube sembrava una cosa molto interessante Oggi lo proviamo in bici, vi farò vedere un video con due immagini appiancate Una discesa con il Gimbal inserito e una invece sulla pettorina con il Gimbal non inserito Adesso vi faccio vedere come funziona questo affare qui Questo ha tre monotori brushless per i tre assi Allora, così adesso è spento, quindi è in stand-by completo Io lo accendo E lui si riposiziona mettendo in bolla la GoPro A questo punto questo macchinario che cosa fa? Questo macchinario non fa altro che tenere sempre in linea la GoPro Perciò, io vi faccio così Vedete? La GoPro è sempre mantenuta in linea Questo perché, mentre si va, lui ammortizza e copia tutti i dislivelli che si possono avere in bici Quindi questo si può montare sul manubrio, sul casco, sulla pettorina Secondo me la posizione migliore è appunto sulla pettorina girato La cosa interessante è che si può montare sul bastone e su tutti gli accessori di GoPro Quindi diciamo che come Steadicam è molto interessante perché se si mette sotto il bastone si può andare a inseguire E lui manterrà sempre in posizione la fotocamera smorzando tutte quelle che sono le vibrazioni che può dare O il movimento strano che può essere Comunque se vedete è veramente reattiva come Compie veramente dei movimenti in maniera incredibile Molto reattiva Adesso vi faccio vedere come si comporta in bici Molto reattiva Molto reattiva Ciao 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 Buongiorno 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 Oh Ciao Grazie 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 Ok, ora avete visto come il gimbal si comporta in bici Lo stabilizzatore L'unica cosa che ci tengo a dirvi è che Così a prima vista è molto ben fatto Ma dà l'idea di essere molto fragile Chiaramente patisce l'acqua quindi se piove questo lasciatelo a casa Nota negativa costa di più della GoPro Quindi io l'ho comprato su Aliex Ho pagato mi sembra 40 dollari di spedizione per averlo subito Nel giro di 3 giorni era qua al posto del solito mese, mese e mezzo E basta Diciamo che è molto interessante Quante volte lo userò non lo so Comunque, niente, nella descrizione del video vi lascio i link del produttore Così potete vedere le caratteristiche del gimbal Ok, spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto Ciao, al prossimo video Ciao, ciao Ciao Ciao